Buongiorno, sono Maurizio Massucci, sono il Vice Presidente della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, la Simfer. Volevo invitare tutti i soci e interessati, fisiatri che sono interessati alla medicina riabilitativa e alla medicina narrativa in particolare. Faremo infatti durante il Congresso Nazionale di Bari un corso specifico sulla medicina narrativa. Si terrà il 23 ottobre durante la mattina. La medicina narrativa è importante per chi fa riabilitazione? Certo, perché è importantissimo recuperare la dimensione della comunicazione, del rapporto con le persone che trattiamo. È importante comprendere le loro storie, ascoltare le loro narrazioni e poter interagire con loro, costruendo insieme il progetto di trattamento e andando insieme avanti nel percorso riabilitativo. La medicina narrativa è una branca, diciamo, della medicina che è attualissima e è di pari passo con la evidence-based medicine. Esiste infatti una narrative-based medicine. È possibile, cioè dalla narrazione, utilizzare anche elementi di efficacia sia per la presa in carico che per il trattamento. Quindi invito tutti i partecipanti al Congresso Sinfer del 2016 a partecipare e iscriversi anche al corso di medicina narrativa che esiterà domenica 23 dalle ore 9. Arrivederci.